Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. E' un Pescara finalmente in vacanza, quello che ha concluso una stagione avara di soddisfazioni con la mancata promozione in B e i play-off conclusi senza neanche una vittoria. E ora c'è una squadra tutta da rifare, difficilmente riuscirà a restare il gioiellino Pompetti già in prestito dall'Inter, pezzo forte del Pescara molto legato ai colori della sua città, ma che dopo il buon campionato con 5 golle e 10 assist ha visto salire le sue quotazioni ed è nel mirino di diversi club di B e A. Chi invece potrebbe rimanere è Jacopo Cernigoi, l'attaccante arrivato a gennaio dal Seregno che dopo un avvio non entusiasmante ha conquistato la piazza nella fase finale del torneo con golle e assist e che dopo la retrocessione del Seregno tra i dilettanti è svincolato e potrebbe essere uno dei punti di porza della nuova società. Sarà infatti quasi certamente il presidente Sebastiani a provvedere all'iscrizione della società al prossimo torneo di C in attesa che le trattative con le nuove cordate portino alla proposta decisiva per la vendita e almeno in una prima fase potrebbero arrivare i primi tasselli da far poi trovare come patrimonio societario agli eventuali acquirenti. Un patrimonio del quale potrebbe far parte anche il difensore Drudi, pure lui svincolato, ma la cui permanenza in biancazzurro è ancora tutta da decidere. Quasi certi tra questi l'addio di Simone Pontisso che aveva un contratto pesante, discorso diverso invece per i prestiti più pesanti come quello di Derisio di proprietà del Bari o quello di Rauti tornato al Torino, così come il bomber Ferrari che pure vorrebbe rimanere a Pescara dopo l'ottimo campionato e Dursi entrambi di proprietà del Napoli con il primo inseguito da diverse società di B e il secondo che invece sicuramente tornerà a Napoli. Già rientrati nelle rispettive società anche Zappella tornato all'Empoli che fra tutti è quello che più interessa per il rendimento offerto e Ierardi al Vicenza, di sicuro il patrimonio della società è ora costituito dai giovani, in primis il fantasista delle Monache vicino alla Sampdoria, il portiere Sorrentino, quest'ultimo convocato da Mancini a Coverciano tra i giocatori di interesse della Nazionale e il difensore Veroli già inseguiti da diversi club di B e A quotati.